E per dimici, su Gioia da 3.980 del Pesimo qui con un nuovo video Oggi vi mostro come tenere un giovane talento, classe 2000, della Boca Juniors Oggi io l'ho lasciato la Boca Juniors perché non è ancora ufficiale Però al 98%, anzi al 99,9% sarà un giocatore dell'Inter a partire da gennaio Un giocatore cercato anche dalla Juventus E però a fine luglio ha scelto i miei razzurri grazie all'intervento anche di Cavier Zanetti Ragazzi prima di iniziare il video vi chiedo soltanto un paio di cose Siccome credo che alla fine del video nessuno ascolta poi le mie richieste o le mie consiglie di qua di là Lo dico adesso velocemente Allora ragazzi, lasciate un bel like, commentate e condividete Consigliatemi nuovi video per il FIFA Prediction Magari se volete vedere qualche squadra più in dettaglio con la campagna acquisti Per esempio volete vedere la Juve come ha composto su FIFA, il Cagliari Tutte le squadre che volete voi Oppure consigliatemi altri giovani giocatori da creare Primavera, Superliga Cinese, giocatori serbi, croati Quello che volete voi, lasciate un bel like e commentate ovviamente E ve li porterò il prima possibile Oppure anche consigli su nuovi video su FIFA insomma Detemi voi Quindi iniziamo col video con Facundo Colidio Allora, nome Facundo Cognome Colidio Nome lo sono diviso colidio Argentina Boca Juniors Attaccante centrale Lui ha messo maglia a 45 perché lui non è ancora tesserato ufficialmente col Boca Junior In quanto minorenne E quindi insomma Lui ha messo maglia a 45 poi ci vedrà Per il preferito destro Lui ha messo maglia a 45 poi ci vediamo Il 4 gennaio del 98 Aspetto 179 cm per 67 kg medio Che ha ragione Mettiamo questa Capelli Stile lunghezza Andiamo corti Andiamo a prendere corti Colore capelli Mettiamo questo Che non sarà il sesto Così Stile barba senza barba Colore barba Nero Sopracciglia Posizionate sopracciglia basse in dentro Forma sopracciglia Forma sopracciglia Allargate giù E spesse Occhi Taglio degli occhi vicini e giù Piccoli Dettaglio occhi 1 Distesa In fuori Dettaglio occhi 2 Aperta Colore occhi Marroncino Orecchie Posizionate l'orecchio in fuori Tipo di orecchio Lobo Leggermente Si Naso Posizionate naso basso Larga e basso Tipo di naso normale Profilo naso Leggermente curvo in dentro Narici Alte E strette Dettaglio narici Strette Guance Posizionate Zygomi Bassi e piatti Tipo di guancia Normale Si muove le polli 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 Labbra spesso E sottile Stile labbra su Mentalità Mascella bassa stretta e definita Non so perché Avevo bisogno di dire mentalità Mento Lungo a punta In fuori Questo ragazzi Per quanto riguarda L'aspetto Di Facundo Colibio Il sessore Deve essere così Insomma Vedete voi Passiamo alle categorie Attacco Cross 55 Finalizzazione 70 Testa 60 Passaggio corto 65 Tiro al volo 55 Piede debole 3 Difesa Marcatura 30 Contrasti piedi 25 Scivolata 25 Abilità Dribbling 65 Effetto 50 Punizione 45 Passaggio lungo 50 Controllo palla 70 Potenza Potenza tiro 65 Elevazione 65 Resistenza 70 Questa è 45 Forza 45 Tiro dalla distanza 65 Movimento Accelerazione 65 Scatto 70 Agilità 65 Relatività 55 Equilibrio 45 Mentalità Aggressività 50 Vedità tattica 35 Posizione d'attacco 60 Visione 55 Rigori 60 Quindi ai portieri così Quindi ragazzi Questo per quanto riguarda Come creare Facundo Collegio su FIFA Spero che il video vi sia piaciuto E sia stato di vostro gradimento Continuate come ho detto all'inizio video A consigliare A lasciare un bel like A commentare A condividere Raggiungiamo almeno 100 like Per questo video Non mi sembra una cifra Esorbitante Ci vediamo al prossimo video Qui con Robert Matri 1989 del P Con me Facundo Collegio Ciao ragazzi